E' arrivata un'altra volta E' colpa mia pure che la posta di casa tua la consegnano a me Mi sono scaduto i termini per presentare il ricorso Noi dovremmo pagare, pur se no abbiamo un suo colletto Dobbiamo essere noi a correre allo smestamento della posta Non solo sbagliano a consegnare la posta Ma nemmeno lo fanno il posto l'uso Pare che ci sia roba di 2000 ancora da consegnare Non sei amico, oggi ci sono roba da invitare quel presentatore della nostra E' fila di bestia, all'assessore, al direttore delle poste, al singolo Ma io mi devo togliere il pesco su uno stomaco Io, Josh Durant Ma lo vogliamo capire, che siamo noi cittadini Facciamo un esplosso alla procura della Repubblica Uno come te potrebbe risalto il problema delle poste a Marigliano Musica Musica Lockreed